Ieri ho rivisto in tv il film sul codice da Vinci e mi sono reso conto realmente di uno scatafascio nella considerazione di che cosa e chi sia stato Gesù, la sua evidente capacità di compiere miracoli, ossia di alterare le condizioni naturali in un modo che rivelasse un potere divino nei confronti del creato, ha indotto tutte le sfere che si sono concentrate sul Gesù a compiere tutta una serie di errori di valutazione. Il primo errore fondamentale gigantesco che proprio significa non averlo capito sta in chi, sentendosi investito di un potere di continuità da parte di Gesù che si allontana dal mondo, improvvisamente crede di aver avuto il compito di fare quello che Gesù non ha mai voluto fare, ossia interferire con coloro cui è affidato il mondo. Con quel potere di Cesare nei confronti del quale Gesù mai ha voluto coinvolgersi, mai figlio di Dio Gesù che arriva sulla terra e che non sente l'urgenza di andare da Cesare a dirgli, caro Cesare, tu devi comportarti così, così e così. È quello in cui si vedono investiti tutti i vicari di Cristo che specialmente oggi si elevano nei confronti del mondo nei confronti del mondo in cui Cesare è il dominatore come i maestri nei confronti proprio di Cesare. Gesù non ha mai degnato di alcuna attenzione Cesare. Gesù si è concentrato e lo ha rivelato come il suo compito a quella cananea che era venuta un giorno a chiedergli un intervento, il mio compito è di recuperare le pecorelle perdute della casa di Israele. Un compito apparentemente minimo, non aperto al mondo, concentrato sulla casa di Israele e sulle pecorelle smarrite della casa di Israele. Immediatamente, a partire da questo compito, coloro che hanno continuato, secondo la loro intenzione, l'opera di Gesù, improvvisamente che i ragazze gasati di potere si sono messi a voler insegnare non alle pecorelle smarrite ma ai re non in un colloquio a tu per tu con ogni povero Cristo di questo mondo tanto da entrare nel contesto dei suoi reali problemi no o le folle oceaniche che possano così ricevere nel loro insieme il valore di Cristo oppure oppure dunque l'errore più grande è quello posto proprio sull'attenzione riposta da coloro che sono venuti come seguaci di Cristo e si sono presentati come organizzatori di quella struttura organizzativa che Gesù non volle fosse rivolta ai potenti ma fosse tutta piegata a servizio delle singole pecorelle smarrite del mondo avere frainteso fino a questo punto il valore di Cristo porta a immaginare chissà quale valore in ciò che viene da Cristo come se il valore di ciò che viene da Cristo sia tale da incidere autorevolmente sulla realtà certo che lo videro perché Gesù doveva dare il segno di un reale potere conferitogli da Dio Padre ma non perché questo potere fosse applicato a tappeto Gesù non ha reso vedenti tutti i ciechi di questo mondo non ha guarito la libra non ha tolto di mezzo tutte quelle condizioni di infelicità che esistevano di menomazione che esistevano ma le ha vinte essenzialmente tutte nel preciso momento in cui ha dichiarato la verità che chi aveva quelle condizioni di una visibile e apparente menomazione contrariamente a tutto quello che si sarebbe potuto dire erano i beati di questo mondo quando Gesù legge come beati tutti gli oppressi tutti i violentati tutti quelli che patiscono il peso di gestire un mondo in cui i violenti si approfittano di loro tutti costoro immediatamente sono salvati da Gesù senza bisogno di essere salvati da quello proprio rivalutando quello e facendolo vedere per quello che veramente è un grande successo una grande beatitudine un grande privilegio e favore concesso dalla divina provvidenza non a chi è potente ma a chi è impotente a chi è umile a chi è sottomesso a chi patisce tutte le angherie a chi in sostanza ha il mondo sulle spalle e serve serve a tutti in modo tale che grazie proprio al suo servizio il mondo possa avanzare chi serve è chi è veramente importante perché serve a qualcosa se uno non serve a niente a che a che deve la sua vita è una vita senza più alcun valore dunque quando mi tocca di vedere questo filmato che è quello che ha fatto da spunto alla mia riflessione di oggi e in cui vedo proprio tutto l'accanimento di una Opus Dei che cerca di nascondere cerca di intervenire per delle bugie che devono essere mantenute in piedi perché la verità straordinaria quale sarebbe che Gesù e la Maddalena erano marito e moglie quante balorde cose sono inserite dalla fantasia dell'uomo che veramente non ha più a che cosa pensare non ha più niente da avvalorare nei confronti di chi invece come gesto potentissimo e degno di un onnipotente ha una tale onnipotenza che è quella che trasforma un povero sottomesso un povero servo uno che subisce tutte le angherie da un sottomesso a un vincente il vero onnipotente è proprio chi interviene in una condizione di assoluta impotenza e la vince mostrandola e dichiarandola per tutt'altra cosa insomma non si arriva a capire che il vero potere in questo mondo reale che è costruito interamente attraverso i numeri sta nel numero zero di un qualcosa che nemmeno esiste è il solo numero che quando entra in relazione combinatoria o divisionistica nei confronti degli altri numeri li abbatte tutti e li conforma a se stesso zero moltiplicato per un numero potentissimo segno di onnipotenza no di potenza zero è onnipotente più potente di n di una eccezionale potenza perché zero interviene su questa eccezionale potenza grazie alla sua onnipotenza perché la abbatte e riduce quella potenza a zero chi non avvalora il valore divino in questo mondo reale insito proprio in questo zero non ha capito che nel minimo così minimo che è addirittura zero ci sta tutto perché la dimensione zero è proprio quella che poi in Bibbia è descritta nella lingua italiana che dice tutto quando grazie all'intervento di un padre vivente che è costretto a prendere il posto dei due figli morti Er e Onan vengono al mondo due figli che sono in ordine di vero primato chiamati Zerac e Perez che letti nel loro dualismo sia da sinistra sia da destra sia da destra Zer tutte e due perché anche il Rez finale di Perez quando è letto da destra verso sinistra è esso pure Zer è zero la potenza di questo mondo ma per come si presenta proprio in questi due Zerac Zerac e Perez dentro questo sacco totalmente zero al centro c'è il contenuto che è CHP ossia CHI RO ossia Cristo tutto è descritto ma il potere di Cristo è quello che è contenuto in uno zero letto da sinistra e da destra e io devo vedere proprio la chiesa per come è descritta che invece sposa la potenza e nei secoli bui terribilmente bui della caccia alle streghe si cercava di imporre con la forza Gesù Cristo e chi non accettava di piegarsi a Cristo era ucciso se voi soltanto pensate a che violenza è arrivata la fede cristiana nel fraintendimento totale di Gesù che si descrisse mite e che invece ha questi rappresentanti violenti che uccidono mettono a morte mettono al rogo chi non si vuole piegare a Gesù Cristo ma a Gesù Cristo no a come lo hanno capito tutto al contrario perché Gesù Gesù quando si trovò di fronte al problema del sabato e gli chiesero che senso si dovesse dare al sabato Gesù disse che il sabato era voluto da Dio per il bene dell'uomo e non l'uomo per il bene del sabato insomma l'attenzione del massimo ossia di Dio è tutta rivolta al minimo è il massimo che si fa servo del minimo e lo sorregge così come è descritto in Genesi 25 quando nel grembo della mamma c'era una grande lotta e l'oracolo del Signore fu in te ci sono due grandi popoli il maggiore si imporrà sul minore ma il maggiore servirà il minore ecco il valore divino il maggiore deve servire il minore perché questa realtà invece è vissuta tutta al contrario del minore che serve al maggiore laddove c'è un minore che non può nulla deve spendere quel poco che ha per sorreggere chi ha e questa è una cosa semplicemente mostruosa irrazionale irragionevole che significa proprio fraintendere totalmente Gesù Cristo e in questo senso di fraintendimento arrivare poi a stravolgere la verità e andarsi a immaginare tutto quel tentativo di abbattere il valore essenziale della figura di Cristo attraverso delle invenzioni delle speculazioni proprio tutte finalizzate a togliere di mezzo questo valore assoluto che è entrato nel mondo per la salvezza di tutto ciò che nel mondo esiste di debole di sottomesso e chi ha questa fede non ha bisogno di vedere che un piccolo diventa grande in questo mondo per intendersi beato è già beato e invece perfino la chiesa nella sua strategia di una chiesa finalizzata alla socialità non intende beato chi è sottomesso fino a quando non cessa la sua sottomissione e non si arriva a capire proprio lo stravolgimento che è fatto nel pensiero di Gesù il quale è l'ideale di tutti i piccoli di tutti i poveri di tutti coloro che sono in basso e non hanno bisogno di nulla se non di riconoscere che nel loro stato c'è veramente la beatitudine perché ora sono in basso e ciò accade in un mondo a termine ma quando questo mondo a termine terminerà nel regno assoluto e infinito dei cieli che non ha più termine saranno eternamente in alto e allora se il fine è quello di essere infine eternamente in alto grazie a un momento di contrapposizione chi ora si abbassa e vuole abbassarsi sarà chi poi sarà eternamente in alto ma chi in questo mondo reale cerca il suo personale benessere non sta facendo qualcosa che lo salva sta facendo qualcosa che corrompe la sua altezza eterna perché se ora tu vuoi essere su sarai poi eternamente abbassato perché tra i due mondi c'è una condizione di uguaglianza e di opposizione e Dio nella sua onniscienza ha reso il valore momentaneo determinato lo ha reso piccolo meschino brutto demoniaco e quando accade che ognuno è così in basso ora ha desiderato abbassare se stesso affinché poi nel tempo eterno si possa essere eternamente alzati ma tutti coloro che proprio nel segno di gestire la chiesa cercano di fare sì che la stessa chiesa in questo mondo reale consenta qualcosa di grandioso lo farebbero a discapito del tempo che verrà perché chi ora è alto in questo tempo che finisce poi nel tempo infinito e che non più finisce sarà nella condizione esattamente uguale opposta e allora tutti coloro che nella chiesa desiderano manifestare la loro potenza a livello di gestori a livello di creatori di chissà che cosa tutti costoro non hanno minimamente capito Gesù Cristo e purtroppo capita tante volte che proprio costoro siano stati messi dalla divina provvidenza a capo della chiesa di Gesù per un errore da parte di costoro che possa essere il massimo possibile errore il massimo possibile abbassamento ora perché il modo di essere in basso ora da parte di chi tenga le parti di Cristo sta nell'abbassarsi nei confronti della varietà di Cristo e questo errore ora colossale nella interpretazione di Cristo tornerà a loro vantaggio perché nel tempo eterno che verrà correggeranno questo errore e tutto quello che è mancato ora al loro vero benessere perché hanno voluto porsi in alto a fare i gestori e quindi si sono macchiati e sono stati in basso sotto il profilo della valenza della loro vita nel mondo che verrà saranno portati in alto secondo il senso dell'amore e della giustizia di Dio perché Dio cari amici è un salvatore di tutti nessuno escluso e solo in questo modo egli salva prima attraverso la libera adesione del valore personale che ciascuno di noi dà al valore di Cristo chi ora lo capisce e ha un senso esatto del valore di Cristo non è che è lì in alto è lì che ha capito che deve essere in basso e sta in basso chi invece non ha capito e si pone in alto più in alto si pone ora più in basso realmente è e Dio alzerà anche lui ecco il modo stupendo con il quale il Dio è un salvatore di ogni cosa e che brutta cosa assistere all'idea di un Dio di salvezza che è reso così squallido proprio in certe forme della fantasia umana come quella che ha portato a questo libro che poi è diventato un film sul codice di Leonardo da Vinci di